L'Atletica Agropoli ritorna da Rovereto con una consapevolezza in più, l'aver gareggiato fianco a fianco con i migliori in Italia. A qualificarsi agli assoluti sono stati Gianmarco Cordella, Decathlon, Gerardina Spinelli e Chiara Tarani, Eptatron e Federica Maioni. 400 ostacoli. Le gare dei nostri atleti, scrivono, si sono concentrate tutte tra venerdì e sabato con Gianmarco Cordella che inizia la serie di gal del suo Decathlon nel migliore dei modi, portandosi tra i primi tre in classifica generale dopo le prime tre prove. Partono bene anche Chiara e Gerardina nel Decathlon con un buon 100 ostacoli e salto in alto. Le prove multiple sono state lunghe e difficili, difficoltà acuita dalle temperature torride di Rovereto che di certo non aiutano gli atleti in gara. Sabato è la giornata decisiva per i nostri atleti, Cordella porta a termine la sua gara al sesto posto generale con 6.373 punti con un personale di 14.92 nei 110 ostacoli. Ogni campionato italiano ti porta a competere con i migliori, anche il carico di esperienza fatto si può rivelare decisivo. Essere agli assoluti è motivo di orgoglio, non tutti possono dire di esserci stati. Nel processo di crescita e immaturazione non sottovalutiamo l'esperienza che delle volte ti può venire in supporto quando la condizione fisica non è delle migliori o per uscire da situazioni delicate. Questo il commento dell'allenatore Scebi. Una emozionata Angela Gargano responsabile del settore giovanile e tecnico delle due multipiste nel commentare il weekend appena passato dice un lungo e difficile percorso che non ci ha impedito di raggiungere il nostro sogno, essere agli assoluti qui a Rovereto dopo aver fatto oltre 4.600 punti nei campionati Juniors promesse. Abbiamo ancora tanta strada da fare, il bello inizia adesso. Il prossimo appuntamento tricolore per gli atleti è il 9-11 luglio a Rieti per gli italiani allievi.